Ciao, il mio nome è WM. Sono la piattaforma gestionale per gioco e scommesse online, in grado di fornire tutto ciò che ti serve e non hai ancora trovato. Sono il partner ideale per seguirti nel settore dell'e-game. Ti illustrerò la completezza delle mie soluzioni, dai servizi di supporto a quelli di consulenza. E una alla volta scoprirò le mie carte vincenti, per consentire alla tua attività nel settore del gioco di conquistare il mercato con un software estremamente all'avanguardia, flessibile e personalizzato. Ogni soluzione ha una possibilità in più per essere protagonista del settore. Non è una scommessa. WM è la garanzia per un business di successo. Con la mia ampia gamma di prodotti dedicati al gioco online, casino, betting, live betting, poker, poker live, hai in mano la combinazione vincente. Il mio casino mette a tua disposizione i giochi più evoluti, con la possibilità di crearne di nuovi, personalizzati e sempre più attraenti. Così semplicemente che li carichi sul sito con un click. Perché offrire ai tuoi clienti una sola poker room per giocare? Io sono l'unica piattaforma che consente di integrare qualsiasi poker room in maniera immediata. Così i tuoi giocatori avranno l'imbarazzo della scelta. Il mio modulo betting ti permette di collegarti a feed esterni, di gestire autonomamente il palinsesto dei tuoi eventi e delle quote, con la possibilità di creare le tue scommesse personalizzate. Io sono l'unica piattaforma aperta per integrare i giochi di qualsiasi fornitore esterno attualmente disponibile sul mercato. Con me non avrai limiti di prodotti offerti e sarai tu a fare la combinazione vincente, integrando i giochi che vuoi a seconda dei tuoi obiettivi. Conquista la scena grazie al mio content management system, per avere la libertà di creare tutti i siti che desideri, con grafica, contenuti e prodotti di gioco personalizzati. Gestiscili a tuo piacimento, rendili unici, attraenti, impattanti. Diversifica l'offerta di gioco di ciascun sito per i tuoi diversi obiettivi e per farli fruttare come canale promozionale e commerciale. Con me al tuo fianco puoi tenere tutto sotto controllo, monitorando costantemente l'evoluzione della tua attività di gioco e gestendo i tuoi profitti. La piattaforma a tua disposizione ti consente di vedere nel dettaglio i progressi e le attività di tutti i siti di gioco. Grazie a funzioni chiare, pratiche e precise, controlla l'andamento delle iscrizioni e l'attività dei giocatori. Osserva il flusso del denaro in entrata e in uscita. Verifica l'incremento della redditività e dei ricavi con la reportistica evoluta. È tutto nelle tue mani. In tempo reale. E ho anche un altro asso nella manica. Farti creare e gestire la tua rete commerciale completamente online e in totale autonomia. Attiva la tua rete multilivello. Puoi includere agenti, subagenti fino a sei livelli e la tua attività si fa comoda, professionale e semplice. Configura direttamente i piani provvigionali per i tuoi agenti con la funzione drag and drop. In un attimo potrai decidere i livelli gerarchici e aggiornarli in ogni momento. Non avrai più bisogno di personale amministrativo. Con questa soluzione tutto verrà calcolato in automatico e ogni agente potrà prelevare il suo corrispettivo dal proprio conto. La tua attività diventa agile per ottenere le migliori performance. A fianco di un'attività di successo c'è sempre la promozione. Così ho pensato anche di fornirti gli strumenti più indicati per promuovere la tua attività di e-gaming e fidelizzare i tuoi clienti. Fai jackpot comunicando nel modo giusto. Le mie soluzioni di alto livello ti danno la possibilità di creare programmi di fidelizzazione personalizzati, bonus e promozioni dedicate, shop con premi fisici e in denaro, mailing di servizio e promozionali, customer care esclusivo e dedicato. Io sono il tuo lascia passare per diventare operatore di gaming online. Inizia subito il tuo business. Avrai tutta la consulenza che sarà necessaria per operare secondo le normative vigenti. Io posso mettere a tua disposizione tutta la mia tecnologia e l'esperienza del mio personale tecnico. Puoi contare sulla mia infrastruttura server, le certificazioni e la consulenza che sarà necessaria in fase di start-up. Ti sostengo nella formazione del tuo personale e nella gestione dei rapporti con i fornitori e le autorità. Scopri di più sulle mie caratteristiche e i miei punti di forza. Clicca sulle sezioni che più ti interessano per avere maggiori dettagli e scoprirai tutti i segreti che mi rendono protagonista assoluto del mercato. Grazie a tutti.